Musica Salve a tutti ragazzi e bentornati qui in un nuovo video Signori oggi sono tornato qui con un nuovo video Un po' diverso dal solito perchè oggi ragazzi sono qui in un mini vlog Oggi vi voglio parlare di un fatto che è successo precisamente ieri 31 luglio E ragazzi ieri youtube ha tolto gli scritti alle persone E questo qui è successo in praticamente tutta youtube del mondo Cioè youtube ha setacciato canale per canale e ha tolto gli scritti inattivi ai canali ragazzi Per gli scritti inattivi non intendo le persone che non commentano ma quelli lì che non guardano i video Musica Ragazzi lo so e anche io sono andato in mezzo a questa devastazione Perchè hanno tolto veramente tantissime persone nei canali E io ragazzi da 754 iscritti sono sceso a 737 iscritti E adesso vi metterò anche le immagini che testimoniano queste cose qui E precisamente ho perso 17 iscritti ragazzi Sono abbastanza Capisco che sono anche pochi però ragazzi 16 iscritti E mi facevano comodo anche averli lì E va bene ci sono anche persone che hanno perso 100 iscritti E sono tantissimi e non si fanno di sicuro in una settimana Infatti youtube ultimamente sta proprio distrutta E già non manda le feed ai video Dopo c'è il bug delle visualizzazioni che sono uguali agli iscritti E dopo ragazzi ci tolgono anche gli iscritti Cosa vogliono fare di più oltre a fare questo Cioè è inutile che sto qui anche a fare il video Perchè alla fine dopo so già che non manderà le feed Non me lo caricherà nemmeno nella home page nel canale E spero che questo diciamo brevissimo video vi sia piaciuto Come sempre vi ricordo di lasciare un bel like Un commento e di iscrivervi al canale Grazie mille per aver visto il video E noi ci rivediamo al prossimo video Bella!